Camer. Ristrutturazioni d'interni. Via Aldomoro 38. Sondrio. Il verdetto della soprintendenza ha messo finalmente i titoli di coda sulla telenovela legata ai lavori effettuati nella sede della Proloco di Morbegno. Tutto cominciò con la segnalazione alla soprintendenza delle belle arti inviata lo scorso ottobre dal capogruppo di minoranza Andrea Ruggeri. Passo successivo l'esposto depositato presso la Procura della Repubblica nel quale Ruggeri ha chiesto di verificare la legittimità dei lavori diretti dalla Proloco e in cui ha sollevato dei dubbi sull'assegnazione d'uso dei locali concessa dall'amministrazione comunale. L'esposto era accompagnato da una corposa documentazione supportata anche da immagini, raccolta insieme agli altri consiglieri del gruppo di minoranza al fine di dimostrare che l'intervento, oltre che illegittimo, aveva arrecato danni ad un bene storico pubblico. Con l'atto ufficiale depositato dalla soprintendenza nei giorni scorsi, si è chiuso definitivamente questo capitolo, che ha avuto un largo eco sulla stampa e sui social. Nel parere dell'ente si evince che le opere incriminate sono compatibili con la tutela sull'immobile e il rapporto alle normative vigenti, quindi i lavori sono in piena regola. Dopo mesi di silenzio, il presidente della Proloco, Luca Della Sale, è tornato a parlare dell'accaduto. Il silenzio è stato doveroso e rispettoso appunto per le autorità competenti ed è stato molto duro perché all'occhio del pubblico e sulla bocca e sulle penne di social e tastiere sicuramente il messaggio che poteva passare era che la Proloco fosse colpevole e in qual modo non esprimesse il proprio giudizio. Ma questo è stato fatto perché siamo persone serie, competenti anche sotto certi aspetti e quindi ci siamo affidati a dei professionisti ai quali porgiamo i migliori ringraziamenti e la verità è emersa. Difficile archiviare questa brutta vicenda che ha soprattutto portato a un danno di immagine, visto che non è stata mantenuta riservata. Una condotta gravissima che per l'associazione morbeniese rimane incomprensibile. L'immagine sicuramente per mesi è stata lesionata perché sono state scritte e dette molte falsità proprio a partire dalle denunce perché le denunce avevano dei contenuti che non rappresentavano il vero. Chi non ci conosce e non sa come operiamo è stato legittimato a pensare che non avevamo agito in modo corretto. Per noi è stato comunque motivo di grande orgoglio la possibilità di poter avere un ufficio in questo monumento della città. Proprio per questo abbiamo deciso di investire risorse dell'associazione sia economiche ma soprattutto anche l'aiuto di tutti i nostri volontari che ci hanno permesso di arrivare a sistemare questo ufficio. Chiaro che poi la grande soddisfazione ha avuto un risvolto negativo, cioè la grande delusione e l'amarezza di essere imbattuti in tutto questo.